Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Fisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano rallentamenti per lavori tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 dalle 22 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Est in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!